Grazie Presidente, grazie agli organizzatori. Una disclosure assolutamente dovuta per un esercizio di onestà intellettuale. Chi parla non è esattamente un sostenitore del fatto che il Governo abbia utilizzato al meglio il tempo della Commissione Pagni, da un lato, e che il prodotto concordato preventivo sia un prodotto di alto livello come poteva essere. Mi sarebbe piaciuto di più se si fossero obbligati i bravi giuristi della Commissione Pagni prima a fornirci con vari mesi di anticipo il codice della crisi senza un titolo secondo, con un titolo secondo poi da riempire con quella che abbiamo imparato a essere la composizione negoziata, piuttosto che vedere e fare il contrario, siamo arrivati dalla vaccazio legis più lunga della storia, 14 febbraio 19 e 15 agosto del 20, alla vaccazio legis che in rapporto alla complessità del testo è la più breve della storia, 14 giorni. Concordato preventivo, non sono convinto che abbandonato finalmente il criterio della miglior soddisfazione dei creditori, con i creditori concepiti come un monolite, sia opportuna la disposizione di cui all'84, quella per cui, lo abbiamo già più volte ricordato, la soddisfazione dei creditori genericamente considerati, una soddisfazione che deve essere non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, divenga la stella polare, fra l'altro potendo, a mio avviso, qualsivoglia interessato in sede di omologa, effettuare questa contestazione. Sullo sfondo alcuni problemi, posti tra l'altro anche da Alessandra Mirabelli, su cui sarebbe interessante dibattere in sede di omologa. Le contestazioni sono tipiche o invece qualunque interessato, come a me pare, può fare valere qualsivoglia violazione del, ad esempio, 84? Quanto invece al singolo creditore, mi pare si sconfessi l'idea di un favor per la continuità aziendale, come esprimono le norme sulla ristrutturazione trasversale, quindi sul 112 secondo comma, un concordato che di fatto non è più un concordato, un concordato a minoranza, ma questo non si scandalizza, è così nella liquidazione coatta, è così ora nel concordato semplificato, mi pare, dicevo, che sia contraddittorio il dire che è un valore preeminente rispetto alla continuità, la soddisfazione almeno pari a quella che realizzerebbe nel liquidazione giudiziale del singolo creditore. Fra l'altro, devo dire che se c'era un caso in cui utilizzare la tutela risarcitoria aborigine, non solo in caso di accoglimento della domanda di revoca dell'omologa, 53,5 bis, era questo. Detto ciò, volendo trattare dell'esecuzione, solo un minuto per tornare su quello che è il tema di fondo, su cui stavano dibattendo da ultimo Renato Rordorff e Sergio Rossetti. Ricordo, dati normativi, pre-voto, che è un problema che per gli accordi non si pone, quindi il 58 non affronta, sono modificabili sia la proposta sia il piano e se ci sono modifiche sostanziali occorre una nuova attestazione. Post-voto e pre-omologa, il 105 e quarto comma, riferito peraltro alle sole proposte, ci dice che sono modificabili solo fino a 20 giorni prima. Dovremmo capire cosa vuol dire questa norma. Può volere dire che non si possono mai modificare di lì in avanti sia le proposte menzionate, sia i piani, che si possono modificare solo i piani e potrebbe rilevare il fatto che sono mutate le condizioni di fattibilità per fare sì che in sede di omologa poi si possa tornare a votare. Può volere dire che, ma mi sembra difficile sostenerlo, si possono modificare anche le proposte, ma si deve tornare a votare. Bene, tutto questo a mio avviso lascia pensare che il 58 sui accordi di ristrutturazione non sia importabile in linea di principio nell'ambito del concordato e che post-omologa a forziori mi pare si possa dire che, e riprendo lo spunto del Presidente, il piano, essendo un mezzo, ma un mezzo rispetto a cui vi è stata disclosure, possa sia essere modificato se rimane fermo il fine, il contenuto della proposta, sempre che non si parli di gravi inadempimento, a quell'insieme che a mio avviso è la proposta e che è il piano. Però non vorrei parlare di questo, ma vorrei parlare, visto che questo c'è, di tutto quello che non c'è. E non c'è un qualche cosa di fondamentale. A mio avviso i concordati non terranno mai, non terranno mai, come non stanno tenendo adesso, se continuiamo ad avere un sistema nel quale ci intestardiamo a dire che in fase di esecuzione, con i termini di prescrizione ordinari, è possibile ridistribuire l'ordine dei bicchieri. Perché questo è il sistema attuale. Il sistema attuale, tra l'altro per colpa di quello stesso Stato, in moltissimi casi, che giudica per mezzo dei suoi giudici, c'è attraverso revoche di finanziamenti statali che determinano l'insorgere di privilegi sulla base, fra l'altro, di sentenze ipercriticate della Cassazione, relatore Dolmetta, i concordati si risolvono e i concordati conducono a fallimenti perché oggi è possibile arrivare da parte di chi è stato considerato chirografario nella proposta e nel piano e secondo una buona parte della giurisprudenza ha accettato di essere considerato tale anche solo con il suo silenzio, se non espressamente, saltano perché costua la possibilità post-omologa di rivendicare il privilegio. Non parliamo della seconda barbarie opposta che si verifica nel caso in cui si è detto durante il concordato a un soggetto sei privilegiato, stai tranquillo, non votare e poi il liquidatore ha la possibilità di far accertare in un giudizio ordinario post-omologa parlo di omologhe definitive di stato passivo cristallizzato per il diritto da un punto di vista teorico in realtà non per quello che è il diritto vivente non per l'interpretazione che è data dell'attuale 108 guardando i codici della crisi lo si va a degradare a chirografario rispetto a una proposta su cui non si è potuto esprimere. I concordati, il problema principale anche se il secondo è uno scandalo molto più grave una truffa al cittadino i concordati saltano essenzialmente per via del primo problema. Allora, il fatto che sia un problema voglio dire, dopo il gioco dei bicchieri non c'è neanche bisogno di spiegare per quale ragione lo sia perché è chiaro che ci siamo dedicati a come doveva andare l'acqua e ci siamo detti che da adesso in avanti ci occuperemo dell'acqua e ci siamo detti che in sede di omologa Nardecchia dice mi raccomando, forse anche prima andate a cambiare quella norma dove si dice che guardate solo la ritualità ci dobbiamo occupare dell'acqua non ci dobbiamo occupare dei bicchieri ma questo è assurdo ma questo è assurdo io lo dico anche all'esilatore storico e l'ho detto anche all'esilatore storico in passato su questo bisogna fare qualcosa perché abbiamo concordati che saltano abbiamo concordati non presentati cioè c'è un dato che manca il dato è il seguente tanta gente viene in studio visto che noi battiamo anche il marciapiede a professione una buona parte di queste riflessioni le devo anche a Maria Pierazzoli che siede in platea tanti concordati non si presentano perché ci viene chiesto questo professore facendo il concordato mettendo nuova finanza la risolvo non fallisco è impossibile dire di sì sulla nuova finanza ci si può forse cautelare parlo agli amici legali forse si può porre una qualche condizione nella clausola sulla nuova finanza ove non si raggiunge il 20% sarà accordata nuova finanza sino a raggiungere detta soglia ma solo se alla data in cui questo in fase di esecuzione si renderà necessario non vi siano state delle contestazioni tali che se valorizzate al 100% renderebbero in uta nuova finanza ma questo è fondamentale per gli imprenditori perché quei soldi se li vogliono tenere in tasca per la transazione nelle azioni di responsabilità quindi bisogna che da questo punto di vista il nostro sistema degli ore condendo e con lo sforzo di tutti degli ore condi dove vorrei provare a farlo ora con voi questo sforzo arrivi a un risultato che sia più dignitoso se no adesso che ci stiamo mettendo a parlare di acqua al dettaglio muovendo un bicchiere abbiamo già finito ma lo stiamo già vedendo bene allora degli ore condendo due soluzioni la prima più radicale visto che nel giudizio di omologa facciamo tantissime cose difficili non si scandalizza visto che l'omologa è provvisoriamente esecutiva visto che c'è quella norma sulla revoca nel provvedimento di omologa che può comunque mantenere fermo e concordato che si diavita tanti accertamenti complessi bene che si faccia un accertamento con efficacia endoconcorsuale di giudicato endoconcorsuale come per tutto il resto anche su questo aspetto non lo si vuole fare perché la verità è che non lo si vuole fare non ho ben capito perché non lo si vuole fare forse si pensa che questo accertamento sia molto più lungo degli altri impossibile visti tutti gli accertamenti complessi sull'acqua che quello sui bicchieri sia un accertamento più difficile ma comunque è detto che è un'ipocrisia dire che il concordato è chiuso e dire che si può dare esecuzione a un piano se non si sa in concreto qual è il piano perché non sapere se i bicchieri sono fermi quando si mette a versare l'acqua a uno vuol dire che non si sa qual è il piano non che si sa e poi domani si potrebbe forse non sapere queste sono ipocrisie allora perlomeno scriviamo a chiare lettere che vi è se non la necessità di risolverlo nel giudizio di omologa un onere di contestazione non oltre direi il voto o non oltre l'omologa ma facciamo qualcosa per favore bene io altro non posso fare di jure condendo di jure condendo invece vorrei proporre qualche soluzione interessante mi pare per risolvere questo problema allora intanto la norma che viene in considerazione è quella più volte ritoccata tra l'altro c'è stata una stratificazione a mio avviso che ha determinato qualche problema proprio per l'ipotesi di rinuncia alla prelazione la norma che viene in considerazione è l'articolo 108 l'ammissione provvisoria in tutto o in parte dei crediti nella fase di votazione avviene ai soli fini del voto questo non pregiudica le pronunzie definitive appunto sulla sussistenza da un lato ed è stato aggiunto da ultimo anche sulla collocazione si vuole dire sul rango dei crediti stessi prima che fosse aggiunta la parola collocazione era stato detto che questa disciplina vale anche in caso di rinuncia al privilegio ed era stato scritto che vale anche in caso di rinuncia al privilegio allora una prima considerazione che vorrei fare è a mio avviso questa norma non può essere letta nel senso che perché letteralmente potrebbe essere letta in questo modo nonostante la rinuncia al privilegio è possibile per il soggetto che ha rinunciato fare accertare una diversa collocazione io a questo non posso pensare si arrivi e vi è un dato normativo il 109 che aiuta a dire che a questo non si può arrivare perché il 109 ci dice che la rinuncia alla prelazione vale ai soli fini del concordato ma non ai soli fini del voto bene allora proviamo ad attaccarci a questo la missione o il mero votare che in effetti pre 2006 significava rinuncia per il privilegiato certamente come dire di per sé non preclude la possibilità di far accertare un privilegio oggi questo va ammesso però cerchiamo di capire in quali casi in via interpretativa nonostante la missione la decisione del votare la condotta del soggetto si può dire incompatibile con l'andare poi lo stesso a rivendicare un privilegio io credo che questo sforzo si possa fare ad esempio che si possa considerare rinuncia un voto a favore parto da una banalità da parte di un soggetto che anche senza rinunciare espressamente da atto al momento del voto allorché scrive la PEC o digita che in effetti trattasi di proposta in cui egli è considerato chirografario ebbene questa mi avvisa è voto a favore di una proposta che espressamente si prende in considerazione come tale è valorizzabile quale rinuncia bene quali altre ipotesi possono considerarsi di rinuncia espressa o tacita perché la possibilità di configurare una rinuncia anche tacita sulla base del diritto privato è compatibile col sistema ma io credo che si possa arrivare a riconoscere quale rinuncia almeno un secondo comportamento il voto a favore anche senza precisazione voto a favore perché o comunque nonostante io sia chirografario ma probabilmente si può fare anche lo sforzo di considerare che sia una rinuncia implicita il non voto perché chi esprime indifferenza verso quel piano dove è trattato come chirografario tutto sommato forse in via interpretativa potrebbe essere considerato rinunciante ovviamente non può esserlo colui che voti contro e all'atto del voto precisi che vota contro anche per questa ragione si ritiene privilegiato o colui che addirittura si oppone alla omologa esiste un'altra possibilità intermedia il voto contro ma senza durre una motivazione legata al rango attribuito a quel soggetto però anche in quel caso ovviamente non può considerarsi un rinunciante un po' più complesso il problema opposto il problema opposto è quello che evidentemente dovrebbe condurre a valorizzare il silenzio degli organi e il silenzio degli altri creditori per poter far affermare che non è più possibile a un soggetto che è stato presentato nella proposta come privilegiato e non si è fatto votare che sia contestato il rango privilegiato questo è un settore tutto da esplorare a mio avviso devo dire che da questo punto di vista io credo che vi sia la possibilità pure di ritenere anche questa ipotesi un'ipotesi in cui il silenzio degli altri può essere considerato rinuncia e di questa rinuncia si possa dire che gli organi della procedura possano tenere conto ovviamente esprimo tutte queste considerazioni in tono dubitativo ricordo che l'obiezione tipica per cui non si forma un giudicato endoconcorsuale non ha nulla a che vedere con la questione di cui stiamo parlando ci sono molte sentenze che vorrei essere tranchante sbagliando impostano la questione in questo modo il punto non è questo se ci fosse un giudicato non ne parleremmo neanche l'esistenza o meno di un giudicato riguarda il diverso problema esiste la possibilità di tornare a parlarne ma noi diamo per scontato che esista ma nel diverso giudizio di cui trattasi in cui esiste la possibilità di tornare a parlarne valorizzare i comportamenti negoziali sulla base del diritto privato del soggetto di cui trattasi certo non è proibito e la questione giudicato endoconcorsuale ripeto che sarebbe opportuno creare a mio avviso de jure condendo però de jure condito non impedisce di fare l'esercizio che stiamo ora facendo al titolo di curiosità e visto che ci veniva richiesto anche di trattare della posizione degli organi a fronte delle inevitabili modifiche della esecuzione che evidentemente in taluni casi sono richieste mia impressione personale sul ruolo del commissario e una serie di riflessioni sul ruolo del giudice il commissario a mio avviso deve vigilare se ne è dubitato in realtà perché egli non deve verificare la mera rispondenza dell'attività esecutiva al piano per come è ma la rispondenza dell'attività esecutiva alla legge e non è consentito pagare dei chirografari se saltano fuori dei privilegiati a parte questo che è una questione di non poco momento perché poi tutti gli imprenditori sono preoccupati in fase di esecuzione di fare scomparire del commissario più in fretta perché sapete credo che lo sappiate tutti che nel registro delle imprese nonostante la legge ipocritamente dica che il concordato è chiuso rimane una dicitura che blocca tutti gli imprenditori che non sono morti o che non vogliono smettere di lavorare e ad esempio si creano un agnuco cioè rimane la dicitura inconcordato e rimane la dicitura commissario giudiziale allora è molto importante che ci si metta d'accordo fra i registri delle imprese tra i giudici del registro per lo meno su qual è l'atteggiamento da avere a questo riguardo però voglio dire che il problema non è un problema teorico perché se questo vigila ho dei dubbi che lo si possa far uscire di scena invece tema che tocca più prettamente i giudici gli accantonamenti è ripetuta la norma sugli accantonamenti prima oggetto di un mero rinvio intanto cosa si va a accantonare in casi come questi in casi in particolare in cui l'essere o meno un privilegiato l'essere quel credito meno privilegiato siccome al piano si sta dando regolare esecuzione è marginale è decisivo ai fini di sapere se c'è o no incapienza patrimoniale cosa si fa accantonare a Bologna ad esempio una giudice a mio avviso illuminata si è chiesto di accantonare solo l'ultima rata destinata ai chirografari è compatibile con il sistema non è obbligatorio far accantonare tutto quello che sarebbe dovuto al creditore privilegiato ove le sue tesi fossero accolte nel giudizio che si è già instaurato è una soluzione questa molto equilibrata perché sollevo tre problemi per l'ipotesi in cui si richiede di accantonare l'intero importo il primo problema è su un piano concorsuale mi si fa apparire con una passività latente bene l'imprenditore ha il problema che deve fare un bilanso allora il primo problema teorico ma chiudo solo con tre interrogativi e tre proposte di soluzioni in modo apodittico è l'obbligo di accantonare sul piano concorsuale obbliga gli amministratori a iscrivere un fondo rischio a bilanso io credo che si possa dire di no che valga la discrezionalità degli amministratori ferma la loro responsabilità ma non c'è un automatismo secondo tema il non riuscire ad accantonare perché non si riuscirà ad accantonare ovviamente perché la realtà è quella per cui basta che lo Stato revochi un finanziamento e tutte queste SRL vedono saltare il piano bene il fatto che si sia inadempienti determina la risoluzione concordato o anche il fatto che si possa dire inadempienti ai sensi dei nomi sulla risoluzione io qui distinguerei tra inadempimento a questo dovere e inadempimento che rileva i fili delle nomi sulla risoluzione che a mio avviso è l'inadempimento alle obbligazioni certe quindi secondo me il soggetto che non riesce ad accantonare non è un soggetto che stiamo restando che ovviamente viene meno a un dovere non è considerabile inadempiente ai sensi dei nomi sulla risoluzione in altre parole io sono convinto che non possa risolversi ma ammettiamo che si possa risolvere questo soggetto siamo sicuri che è insolvente perché c'è della giurisprudenza per cui quando la società è in liquidazione immaginiamo che sia in liquidazione il bilancio consente di rilevare un'incapienza patrimoniale questo tema non è mai stato approfondito cioè se è marginale al passivo un fondo rischi siamo sicuri che il soggetto sia insolvente perché è una bestemmia a farlo fallire perché andiamo a vedere nello stato passivo qualcosa che si potrebbe scoprire che è esattamente conforme a quello che lui pensa bene vi ringrazio grazie professor Guerrieri ascoltandolo mi veniva mi veniva la domanda se non tutti ma alcuni dei problemi delicati sollevati al professor Guerrieri a proposito della possibilità di mutare la collocazione chirografario privilegiata in fase successiva all'omologa rispetto a quella determinata sia al momento della votazione non possa trovare una soluzione o possa trovare un aiuto nella sua soluzione nell'applicazione poi del principio generale di correttezza e buona fede al quale tutti i partecipanti a questa vicenda sono soggetti perché certamente è un comportamento contraddittorio di chi nella fase dell'approvazione si sia o abbia accettato o sollecitato la sua collocazione in un rango rispetto a quanto egli poi voglia far valere in un momento successivo potrebbe suscitare qualche perplessità sul piano proprio della correttezza e buona fede del suo comportamento naturalmente questo apre poi un altro problema non facile da risolvere e se cioè la violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'ambito di queste procedure si traduca soltanto in conseguenze di tipo risarcitorio o determini o in che misura possa determinare la invalidità o l'inefficacia di determinati atti ma naturalmente questo richiederebbe un'altra sessione di convegno noi invece ci fermiamo qui poiché si è molto parlato di calici e di bicchieri possiamo concludere con in alto i calici e credo che in alto i calici davvero sia una espressione coerente con quanto sta per accadere cioè una premiazione che Laura De Simone Salvo Leuzzi e Massimo e Massimo Fabiani credo vorranno celebrare noi sgombriamo il tavolo e ringrazio l'auditorio grazie a tutti Grazie a tutti.